Ieri le sirene, le ambulanze, il fischio dei proiettili nell'aria e la paura. Oggi al primo risveglio dopo quell'incubo, Cardano al campo si interroga, si confronta e si fa sempre più consapevole che la follia di Giuseppe Pegoraro, l'ex vigile del comune sospeso, poteva fare una strage. Solo la fortuna ha risparmiato le vite del sindaco Laura Prati e del vice sindaco Costantino Iametti, entrambi raggiunti da tre proiettili operati d'urgenza. E poi quei colpi sparati all'aperto, quegli spari contro gli agenti che tentavano di fermarlo, è una certezza angosciante. Il suo proposito di uccidere non si sarebbe fermato al comune. Aveva pensato a tutto, il piano era elaborato e si sarebbe forse concluso con un suicidio eclatante o con uno scontro a fuoco. Il blitz in municipio secondo le prime indagini avrebbe dovuto essere solo la prima tappa di un tour della morte che comprendeva politici di sinistra, i giudici, i finanzieri, la stampa. Tutti i soggetti che in qualche modo erano stati vicini alla sua vicenda personale, a quella sospensione per truffo e peculato relativa alle timbrature dei cartellini, anche dei colleghi che lo aveva relegato in una condizione psicologica al limite. Voleva farsi giustizia, detto agli inquirenti, si sentiva perseguitato. Per lui è pronta una perizia per comprendere la capacità di intendere e volere. Si immaginava una fuga nei boschi, una morte con le armi in pugno. Aveva sì pistole e fucili, ma anche tende, viveri, borracce. Si vedeva come Rambo voleva fuggire e farsi giustizia, come nei film americani. A casa sua aveva lasciato un testamento e l'archivio di tutta la sua vicenda giudiziaria.